Ecco qui, e siamo arrivati alla città delle scienze, la ciudad della sciencia, ecco l'occhio di calatrava, e no, è visto che la città è la città delle scienze, ecco l'occhio la città delle scienze, ecco l'occhio l'occhio di calatrava, questo è il palazzo delle arti ecco l'occhio ecco l'occhio ecco l'occhio ecco l'occhio ecco l'occhio Sei riuscita a riprenderla? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non salutami saluta anche lì a dalle un abbraccio un bacione da parte mia scappa e quando dico così questa qui no perché vedi non fare a prescia che ha detto di non usare e vabbè è trovato questa qui come si è presa guarda guarda vabbè va Grazie a tutti. Oh, guarda che spettacolo. Oh, guarda che spettacolo. Oh, guarda che spettacolo. Oh, guarda che spettacolo. E' solo che me ne sono persi Di nuovo Di nuovo Che tolto Alla L'america 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 Un perro Un perro Un perro Un perro La Parnia E' stato il perro Un perro Un perro Un perro Un perro Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.